Eva diceva ad Adamo, beh oggi che cosa facciamo? Ho un'idea carina, faremo la rasta piscina. Sì, ma non ho più benzina, disse egli ma come farò? E per risolvere il rebus, ci mise il ditone del negus. Ah, 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 dico il negus che cosa dirà? Vi dico uno indominello, c'è un coso né brutto né bello, pieno di pazze intenzioni, si veste alla Carlo Goldoni, a barba ed è ricciutello. Ma infine non sapete cos'è, posso aiutarmi nel rebus e tutta la testa del negus. Ah, 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 dico il negus che cosa dirà? Una fanciulla a piscina, passando una bella mattina, vide un soldato italiano con l'accento di sigaro in mano. Disse che bello, che strano, con te da stappare, fric fric, con me ne lì che dai e dai, ma il fuoco ahimè non vi è mai. Ah, 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 chissà il negus che cosa dirà? Chiesi a una bella piscina, per X dove ci si incammina, e la mi fece intuire, qual via dovessi seguire. Io m'ero già inoltrato, in una foresta, ma lei fece. Ah, 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 signore la strada è sbagliata. Ah, 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 chissà il negus che cosa dirà? Sode una voce di donna, che grida, aiuto, aiuto. Corre un soldato dei nostri, e trova un negretto parvuto, che sorridendo gli dice. Ma sì, quella donna per me, vieni mio bel soldatore. Castruccio Balzacca è il suo nome. Ah, 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 ti parliamo che cosa dirà? Ah, 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 ah. moltiA Ah, ah, ah. Ah, ah